L'episodio di sabato scorso, ovvero la tromba d'aria che ha sollevato polveri finite sul rione Tamburi, sta per finire in procura. Il sindaco Meluccia infatti ha annunciato che presenterà un ricorso. Dopo i fatti di sabato presentiamo anche un esposto, ci stiamo lavorando questa mattina e ne parlerò col sostituto procuratore di Taranto. Vogliamo andare avanti, non è più concepibile una situazione del genere a dispetto di chi dice che quella è una fabbrica viva, una fabbrica moderna, un asset da valorizzare, un asset da trasformare. O arriviamo a un'ILVA più piccola, più moderna e più sicura come chiediamo da mesi con un accordo di programma o il governo davvero si sta infilando in un vicolo cieco e non potremo aiutarlo ad uscire facilmente. È il momento, è un punto di no ritorno, lo devono capire tutti e siamo pronti ad andare fino in fondo anche a Bruxelles se necessario.